Popolo rossonero, popolo del maldito, buona domenica 7 di aprile, anche oggi siamo qui a parlare del nostro Milan, anche ieri ci ha dedicato un sabato gioioso, un sabato di emozioni forti, di caldo, caldo sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista proprio dello stadio, tanta gente, tanto entusiasmo per il nostro Milan, una bella partita, durata 20 minuti in realtà, però 20 minuti veramente spettacolari e poi in gestione, insomma adesso approfondiamo bene il tema partita, prima lasciatemi salutare Davide che ho conosciuto, Davide della Toscana che ho conosciuto sugli spalti della curva ieri, mi ha fatto molto piacere, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è bello incontrarvi a San Siro e poter scambiare due parole con voi, l'altra volta ho conosciuto Alessandro, questa volta ho conosciuto Davide e quindi quando uno di voi viene a San Siro me lo dica che magari ci conosciamo e ci stringiamo la mano e facciamo una bella chiacchierata insieme, mi fa piacere veramente, quindi ancora un saluto a Davide, un like al video sembra nulla ma è utile, è molto utile, naturalmente l'iscrizione è semplice, più siamo meglio è e la campanella per le notifiche per ricevere i video, se vuoi e volete farvi un regalo o fare un regalo la cover del bandito la trovate nel link in descrizione. Allora, dare i voti mi sembra un po' inutile perché è una partita che abbiamo affrontato subito col piglio giusto, insomma il piano partita è un po' quello che vi avevo sperato, vi avevo detto che speravo nella presenza di Pulisic come vice Loftus e che mi auguravo che la partita si risolvesse e si mettesse al sicuro il prima possibile per poter gestire tranquillamente i vari cambi, le varie situazioni e insomma arrivare nel migliore dei modi alla partita di giovedì. Direi che è andata proprio così, l'abbiamo sbloccata subito con un gol pregevole fattura sia per l'incursione da destra di Ciucco di cui tra poco parliamo, sia per il controllo e la stoccata semplicemente da top player di Christian Pulisic che non smette mai di stupirci. Un bellissimo gol frutto di tecnica, di precisione, poi c'è stato il raddoppio di Olli, il solito colpo di testa, avremmo potuto raddoppiare in altre due o tre occasioni, però diciamo che dopo il ventesimo giustamente abbiamo cercato di abbassare i ritmi, di tenere la partita sotto controllo, anche se qualche pericolo, ricordo un tiro fuori di poco, un colpo di testa che ha preso la traversa, eravamo d'altronde in un assetto tattico inusuale e che comunque ci sbilanciava un attimino. A parte questi due pericoli comunque abbiamo gestito bene il primo tempo, siamo andati a riposo con l'oro in dieci per quella gamba, fa impressione vista così, vista in televisione, però ecco io penso che forse anche un giallo, era sì un po' troppo scomposto, un po' troppo pericoloso come intervento. Comunque così è stata la decisione, quella è stata e nel secondo tempo praticamente è stata l'Accademia, abbiamo cercato di non utilizzare ritmi troppo alti, ma divertendoci, diciamo che quello che ho percepito dal secondo tempo della partita di ieri era la voglia di divertirsi che avevano i ragazzi in campo e quando hai voglia di divertirti poi ti riescono giocate anche spettacolari, Leao ne ha fatte diverse nel secondo tempo, il gol è un bellissimo filtrante di Adli per Leao che incomincia a essere proprio cattivo davanti alla porta, quando arriva inizia a essere proprio bello diretto, bello preciso, bello cattivo, questo sicuramente farà la differenza. Mi ha un po' stupito il fatto che Rafa è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, però probabilmente si stava divertendo, stava bene e quindi le scelte sono andate più su altri giocatori. Qualche protesta dei dirigenti del Lecce nell'occasione dei gol di Leao, non credo che il contatto di spalla sia diventato punibile col calcio di rigore, il tocco di Teo col ginocchio totalmente, assolutamente involontario, che ne dicano alcuni pagliaccetti e poi basta, dovete capirla, lo dico agli avversari, non ci fermiamo più. Cioè quando vi buttate per terra per cercare il rigore, l'intervento del bar, di fermare l'azione, non ci fermiamo più, noi andiamo, dovreste capirlo così per evitare innanzitutto di prendere gol e poi magari anche di fare delle inutili sceneggiate, perché così deve essere. Adesso chiaramente l'arbitro se avesse capito e visto che il giocatore era stato preso col ginocchio sulla testa, sicuramente avrebbe fermato il gioco, ma non se ne è accorto praticamente nessuno se non al replay, quindi nello svolgimento dell'azione ci stava assolutamente, anzi c'era forse un rigore per una spinta sul giro in area su cui ha sorvolato, ma il secondo tempo io lo considero pura e semplice accademia, poco più di un allenamento diciamo. I voti, i voti non avrebbero un grande senso, in base a quello che abbiamo detto fino adesso, però si possono dare dei giudizi, ad esempio Ciuqueze, un grandissimo inizio, devastante, ma poi è rimasto sempre sul pezzo, sempre la cosa giusta, coraggio, intraprendenza, gamba, è chiaro che è un altro giocatore rispetto a quello di 15-20 giorni fa. Probabilmente il gol di Verona ha sbloccato un po' la situazione mentale di questo ragazzo e bene ha fatto il mister a farlo giocare anche ieri, perché sicuramente una prestazione così a San Siro, davanti a 70.000, una prestazione a cui è mancato soltanto il gol, ma con azioni, serpentine, insomma gli darà ulteriore carica per questo finale di stagione che sicuramente ci servirà, sarà molto 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 utile già a cominciare dalle due partite contro la Roma, poi arriviamo a parlare anche della Roma che ho visto ieri impegnata nel derby. Pulisic, Pulisic, io ho finito gli aggettivi per Pulisic, sinceramente non ho più aggettivi per Christian, Rasent sempre la perfezione perché fa sempre la cosa giusta, è sempre determinante, è sempre sul pezzo, è sempre, insomma non ne sbaglia una. Leavo, al primo tempo non serviva che facesse niente di che perché ci hanno pensato gli altri due e invece nel secondo tempo si è divertito, ha fatto alcune giocate strap applausi, ha fatto il gol, insomma secondo tempo ha preso lo scettro e ha fatto vedere che sta benissimo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico e che soprattutto anche dal punto di vista atletico. Molto bene Reinders ancora, anche lui secondo tempo una giocata spettacolare che se segna viene giù veramente San Siro e Adli molto bene nella verticalizzazione, anche nell'abbassare i ritmi, è riuscito a gestire bene la palla nelle situazioni in cui c'era da abbassare il ritmo, quando invece c'è stato da fare quel bellissimo filtrante per Leavo, insomma tanta roba quel passaggio a Rafa. E gli altri diciamo tutti sufficienti, una nota particolare per Olli che è riuscito a trovare ancora il gol, Olli sono sicuro che insomma ci sarà da preparare i fazzoletti per l'ultima partita in casa perché è stato veramente qualcosa di speciale il rapporto che si è creato tra il Milan e tra Olli, quindi prepariamo i fazzoletti per l'ultima di Olli. Roma-Lazio, ho visto la Roma, ho visto il solito ambiente incredibile veramente, cioè lì sembra che si giochi in altro sport, la corrida, le corrida si giocano lì, una roba veramente sempre ai limiti delle crisi di nervi, Mancini poi in questo è il re, no? Giusto? Quindi noi dobbiamo essere pronti a sapere chi affrontiamo. È chiaro che ci sarà prima la partita a Milano e quella dovremo cercare di instradarla nel modo giusto sapendo che poi dovremo andare là in un ambiente che anche ieri sera ha confermato di essere un ambiente piuttosto, insomma, non è che faccia proprio bene al calcio. Comunque sarà da giocare, loro escono vittoriosi, quindi saranno belli baldanzosi, belli carichi, avranno il tempo di riposare come l'abbiamo noi, però dobbiamo essere consapevoli che quando andremo a Roma sarà sempre quel tipo di partita, quindi prepariamoci bene, cerchiamo di recuperare tutti, di essere belli pronti e insomma cominciamo l'undici, saranno due battaglie, cerchiamo di far valere il fatto che siamo obiettivamente più forti di loro, poi dovremmo dimostrarlo sul campo. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi e chiaramente poi nel pomeriggio affronteremo anche il tema con cui non ho voluto avvelenarmi all'inizio della mattina, ma andremo a valutare un po' le reazioni dei tifosi della prescrittese cartonese all'iniziativa all'esposto fatto da alcuni tifosi, che lo debbano fare con le società che invece stanno in silenzio, direi che è veramente emblematico della situazione di questo calcio italiano. A oggi pomeriggio dal vostro bandito, forza mina sempre, indiavolati!